se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio è perché ti mancano le conoscenze per progredire noi di battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze academy punto vantoscacco punto com oggi giochiamo contro jospem un messicano no es martinez alcantana ma la bandiera non è del messico si è che è che si è qui si toma la vedo preparato maestro e ora e 5 la è orribile questo schema per il bianco una speciale non per lo meno a ver al file 6 dama e 5 a 6 dama porto rea 7 gano la mano secondo le mie analisi a casa e fortissima anche a casa e qui no 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 prima 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 adesso non ma non mi ricordo bene ignorami ignorami questo non sono sicuro credo che a 6 forse bc sì perché non conosco base in dettaglio perché questa variante non è buona e mai giocato contro martinez alcantara in un torneo un segundito si io gioco ai al fil per un bueno supongo che sarà bene supongo giova molto forte lui si ah juega juega molto bene molto bene non stai male si per cuidado cavallo può essere buona perché perché è buona perché come gioco per un pedone prende perdone prendi al fil por a vera al fil por b5 mira lo passa che a esta puoi di ser che cavallo e 6 e per un po ma di 5 non vince per un pan per un po ma di 5 di più sicuro è sicuro che non potresti prender no, posso prendere però che è la struttura mala però non so se è tan mala ma sei sicuro che devi giocare? e da un e8? non mi cambia e cava la c7 però per esempio che gioco? prendi un f si ve fea la struttura però non so si vede orribile però ti restringi, non te crei sì? non è tan orribile torre, torre, torre per esempio pensi che non sia grave quindi non so io ti voglio giocare a qui questa buona io voglio fortissimo Martínez Alcantara ma non era peruviano lui? peruviano? perché ha la bandiera del Messico? perché viaja molto a Messico come che cori George no? un altro fortissimi tutti ma non è per la bandiera del Messico ma non è per la bandiera del Messico ma non è per la bandiera del Messico per cambiare del Fieri Campo Oscuro no se si quiero cambiare perché questo mi va a quedar più veile non sai se va il tempo sarà fondamentale non vuoi che la sua donna arrivi trova tutte le mosse per dare fastidio a lui ma non è difficile non collassare in questa posizione non sembra buona per il… no? no e ora che facciamo? cosa sta passando? a me anche passo e perchè non… e potrei fare H e G e te cerro tutto anche se faccio H4 e G5 non la tiene così facile e magari sacrifichi la qualità con torre D4 e G5 ora farà l'attacco di minoranza e chiarata con minoranza poi manchiamo la serenità ok ancora non è riuscito ad aprire una breccia tutto difeso tutto difeso magnifico no? stai giocando benissimo e ora è questa buona davvero? sì perché non ha torre C3 e se tiapra colonna C5 si poteva? non lo so ah C5 era una possibilità, no? è... c5… c5… c6… c5… si può ancora difendere wow la partita non è ancora finita la diagonale wow sei un genio no u u u u uff no ah si joder non lo vi ah quasi uff possiamo vedere un momento e aca com'era torniamo indietro no sta perdita non c'era nulla si si andiamo indietro aca com'era aca com'era aca com'era aca com'era aca com'era aca com'era c4 subito e c6 anche si si cavallo f5 d4 stai meglio la variante è orribile per il bianco si cavallo d5 non fa parola non fa parte del sistema e qua cavallo d4 è cattiva si si lo che ti dici il cavallo è 6 se giochi è per d4 se giocavi b5 cosa ti faceva? però dama b4 dama s5 e non cambia non cambia lo status quo abbiamo perso la partita contro un 3050 contro un Martinez Alcantara però lui è stato bravissimo a stare fermo e poi non c'era più nulla ma quando poi hai trovato contro gioco con quella mossa lì qua quando hai trovato torre a 6 secondo il motore c'era qualcosa non c'era nulla lui ha mantenuto un sangue freddo impressionante è giocato e se giocano come Dio non si può fare nulla va bene adesso vendetta nella prossima partita ci vendichiamo vendichiamo va bene e diremmo di fare meglio prossimamente